Da un po' di tempo si parla di emergenza capitanata come quarta mafia. È concettualmente un errore parlare di emergenza. Questa discussione l'abbiamo fatta in Sicilia decenni fa, perché quando si parla di emergenza terremoto, c'è un terremoto, c'è un'emergenza, bisogna ricostruire. Ma qui parliamo di fenomeni consolidati, strutturali, è un'emergenza permanente. Mentre quando c'è un terremoto per ricostruire, poi dipende dalla capacità degli amministratori, il tempo. Si può fare anche in pochissimo tempo la ricostruzione. Quando si parla di mafia è un percorso lungo, difficile, molto spesso accidentato, controverso, contrastato. E quindi non è un'emergenza. Purtroppo la normalità di questo territorio è segnata da una forte presenza mafiosa che finalmente, da un poco di tempo a questa parte, viene colta dall'istituzione, dall'opinione pubblica, anche nazionale. Recentemente all'udienza primaria del processo decimazione bisi si è costituita solo una vittima. Lei da sempre ha fatto appelli ai commercianti, agli imprenditori. Perché è così difficile abbattere il muro dell'omertà, della paura? Perché non è solo paura. L'omertà nel mondo imprenditoriale, ma a Foggia come a Palermo, come a Reggio Calabria, non è solo un aspetto di paura. C'è un elemento di convenienza che è molto più difficile da vincere. Cioè l'imprenditore che si sottomette all'organizzazione mafiosa, in questa sottomissione paradossalmente, trae una ragione di convenienza. La paura la si può sconfiggere perché ci si mette insieme l'associazione. Il modello dell'associazione ci si mette insieme, si collabora, si è insieme e si vive e si è più forte. La convenienza è più complicata perché deve incidere in una dimensione economica che per definizione è più complessa. Però è sottile poi la differenza tra convenienza e connivenza? Non sono la stessa cosa. Io non parlo della complicità. Lì è un altro paio di maniche. La connivenza, la complicità di quello dell'imprenditore che fa consapevolmente accordi con la mafia è a un ritorno, cioè una reciprocità. Questa è la collusione su cui interviene il codice penale. Io parlo di quella convenienza ambientale, purtroppo, che fa capire all'imprenditore che è meglio non opporsi. Che è meglio non opporsi. Se uno non si oppone si può continuare. Purtroppo si può continuare cosa? A sopravvivere. L'impresa non cresce. Questo è il punto dove tutto entra il muro, per fortuna. Questa è una terra di risorse enormi, straordinarie. Quanta ancora ricchezza si potrebbe produrre in questo territorio? Vieste, due milioni di presenze l'anno. Ma se non ci fosse stata l'associazione antiracket lì, che ha ridimensionato il fenomeno mafioso nel Gargano, lì ci sarebbe stata un'ipoteca a queste due milioni di presenze turistiche l'anno.